No, perché appartiene al campo dei regolamenti parlamentari, quindi finché sono questi, è del tutto lecito, solo che provoca un danno a tutto il Paese, perché non si capisce bene qual è la ragione, cosa centri la riforma istituzionale, ad esempio, con una legge che deve semplificare o fare investimenti o affrontare le crisi del Paese, quindi dal nostro punto di vista sono posizioni strumentali.